Regione Toscana, il Consiglio regionale. Il Consiglio regionale della Toscana approva a maggioranza la ferma contrarietà a ogni ipotesi di CPR, centro di permanenza per il rimpatrio, da realizzarsi sul territorio regionale. 24 i voti a favore Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva e 12 i voti contrari Lega e Fratelli d'Italia. Durante il dibattito sono state discusse e respinte in aula due emozioni presentate da Fratelli d'Italia e Lega che puntavano all'istituzione di un CPR in Toscana. L'atto approvato dalla maggioranza impegna la Giunta ad attivarsi nei confronti del governo affinché sia posta la massima attenzione alla questione dell'integrazione socio-economica dei migranti nel paese ospitante e chiede che la Giunta toscana si impegni affinché siano recepite le istanze provenienti dagli amministratori locali dei vari territori toscani, volti a evitare la realizzazione di nuovi CPR e a proseguire con il processo di redistribuzione degli ospiti sulla base del modello della rete di accoglienza diffusa. Noi stiamo assistendo al fallimento della politica migratoria e della gestione dell'immigrazione da parte di questo governo e quelle che erano le loro ricette, vale a dire la chiusura dei porti, si stanno rivelando come era evidente solo cinica propaganda elettorale. Oggi sono al governo e non sono in grado di gestire questo fenomeno che è un fenomeno strutturale che non va affrontato, non può essere affrontato solo a colpi di emergenza, a colpi di decreti che uno dopo l'altro si rivelano assolutamente inefficaci. Gli sbarchi sono più che raddoppiati in questo anno rispetto agli anni precedenti e il fenomeno viene affrontato con una gestione che ha poco dell'umano e che non coinvolge assolutamente i sindaci, le amministrazioni locali, le regioni se non perché le problematiche gli ricadono addosso nel momento in cui questa gestione diretta dal Ministero alle Prefetture si riversa sui territori senza che gli amministratori locali siano preventivamente coinvolti. Credo che invece occorra affrontare il fenomeno in maniera strutturale con una visione complessiva, con umanità che è il primo requisito perché stiamo parlando comunque di persone umane che spesso scappano da luoghi che sono invivibili perché ci sono le guerre, perché c'è la carestia, perché comunque non c'è una prospettiva di vita per quanto riguarda soprattutto i minori che arrivano con gli sbarchi tenendo anche conto di quelle che sono le esigenze del mondo produttivo. Tutto questo deve coinvolgere quindi tutta la filiera istituzionale e non può essere trattato ad esempio con i CPR che si rivelano delle strutture che erano nate per essere strutture di accoglienza dove le persone potevano stare al massimo 30 giorni e che invece ora, in base all'ultimo decreto, possono accogliere questi migranti addirittura per 18 mesi. Questa è la dimostrazione concreta del fallimento che il centro-destra sta facendo sulla questione che riguarda l'immigrazione. Ha fatto tutto l'opposto di quello che aveva promesso, i sbarchi sono aumentati, il tema dell'immigrazione sta travolgendo il nostro Paese e non si stanno trovando delle risposte cogenti e puntuali per risolvere questa questione. Il modello che abbiamo in mente noi è quello dell'accoglienza diffusa provare a diffondere sul territorio la forma di accoglienza ma bisogna anche limitare gli accessi e questa è una risposta che serve da parte del Governo e questo sta mancando. Evidentemente non si può poi trovare la scorciatoia di andare a creare una sorta di lagare in Toscana da dove concentrare un numero indiscriminato di persone che vengono accolte e giustamente salvate nei mari ma questa non è una risposta serve fare un'azione di Governo che sta mancando oggettivamente. Noi abbiamo partecipato al dibattito in aula che è stato un dibattito illuminante ha anche evidenziato la diversità di visione proprio del mondo da parte del centro-destra e parte del centro-sinistra e ho tenuto a riportare la discussione anche sulle cause del fenomeno immigrazione perché da parte del centro-destra sembra molto semplice la soluzione cioè si costruiscono CPR e si risolve il problema si riportano tutti a casa loro e finisce qua. Ecco invece il problema nasce anche a livello europeo non sono stati in grado nemmeno ora che sono al Governo a far rivedere il Trattato di Dublino che è così fortemente penalizzante per l'Italia ma soprattutto non si affronta il problema umanitario. Ecco qui è stato palese la diversità di differenze e di sensibilità fra la destra e il centro-sinistra. Io vorrei però evidenziare come ho fatto anche in aula che forse sottovalutare il sentimento di insicurezza e la percezione di pericolo e di paura che è nella popolazione da parte del centro-sinistra è un problema e soprattutto un grave errore perché è quello su cui il centro-destra ottiene sempre maggiori consensi. Certo non sarà sicuramente semplice trovare una collocazione per un centro di permanenza di rimpatrio però credo che come è stato fatto anche nelle altre regioni quando c'è una buona collaborazione istituzionale quando c'è rispetto per tutti gli organi dal Governo alla Regione ai Comuni a tutti coloro che poi sederanno a quel tavolo perché il Governo non ha nessuna intenzione di venire ad imporsi in Toscana di scegliere in maniera autonoma la collocazione sarà una contrattazione istituzionale una contrattazione politica come avviene per tutte le altre tematiche in Toscana non si vogliono termovalorizzatori non si volevano un'epoca inceneritori non si voleva la base militare in Toscana non si volevano tante cose perché è facile politicamente dire sempre no senza trovare e provare a costruire delle soluzioni migliorative per la nostra Regione. Sì, sul tema del CPR ormai ne parliamo da mesi ancora una volta il Partito Democratico in Regione Toscana sceglie di non assumersi la responsabilità appunto di scegliere di dare una risposta a tutti quei cittadini che oggi percepiscono il tema dell'immigrazione come un tema che si lega indissolubilmente anche al tema della sicurezza. Avevamo proposto che ci fosse un impegno formale dal Consiglio regionale fino alla Giunta a sottoscrivere gli accordi con il Governo nazionale che appunto aprissero la possibilità alla Toscana di avere anche delle risorse da appunto investire sul tema migrazione a prescindere dalla questione CPR o meno. Sappiamo tutti che i numeri sono numeri difficili da sostenere sono numeri che non possono essere compatibili con il sistema dell'accoglienza diffusa il tema è talmente serio che oggi comincia diciamo ad essere impellente scegliere anche di fare il CPR. Purtroppo la Toscana ancora una volta si pone a blocco contro il Governo nazionale e lo fa per un pregiudizio esclusivamente ideologico non rendendosi conto che questo approccio in realtà è distante anni luce rispetto a quella che è la percezione del tema che hanno i cittadini. La Toscana è una delle regioni governate dal centro-sinistra che in Italia non vuole i centri di permanenza per i rimpati che sono quelle strutture che devono mantenere per un breve periodo di tempo gli irregolari che sono chiaramente delle persone che devono essere rispedite a casa loro nel loro stato. Questo è un no ideologico da parte di chi amministra questa regione perché il Governo sta cercando attraverso l'attuazione di questi CPR in nuova veste, tra l'altro anche finanziando e dando la possibilità di migliorare queste strutture e dando possibilità anche di maggiore spesa per la permanenza di queste persone all'interno del CPR. Si parla di criminali, di persone che non possono stare nelle carceri a spese degli italiani ma che se entrate regolarmente devono essere rispediti a casa loro. Purtroppo spesso vediamo anche dalle cronache dei giornali che molti irregolari poi compiono dei crimini e anche molto gravi come gli omicidi. Interrogazione in Consiglio regionale da parte di Italia Viva sulla Scuola di Specializzazione Medica in Chirurgia Generale di Siena. L'interrogazione ha sottolineato come la Scuola di Specializzazione Medica dell'Università di Siena registra tante caselle vuote e un record negativo in chirurgia generale di livello nazionale preoccupante con zero candidature su cinque posti disponibili. La Giunta ha risposto in aula con l'assessore alla Sanità Simone Bezzini indicando che sta raccogliendo dati ed è al lavoro per cercare tutte le soluzioni possibili per ovviare alla carenza di candidati per la specializzazione medica. Da anni si registrano problemi in questo settore anche a causa della scarsa attrattività della professione medica soprattutto in alcune discipline che sono nettamente in sofferenza in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Ha riferito l'assessore e ha indicato che la Giunta sta tentando di fare tutto il possibile per raccogliere candidati su tutti i percorsi di specializzazione medica. La questione della chirurgia è una questione importante in primis le scuole di specializzazione serve non solamente aumentare il numero delle scuole ma fare in modo che la qualità della didattica della chirurgia abbia un livello di qualità altissimo serve un controllo puntuale servono misure urgenti senza la chirurgia e senza la qualità delle scuole di specializzazione in chirurgia non ha senso il sistema sanitario toscano cioè il sistema degli ospedali il sistema sanitario si regge se la chirurgia funziona è il cuore pulsante della vita degli ospedali e la carenza di giovani medici che vogliono formarsi nelle scuole di specializzazione toscane in primis in cura di Siena è un problema serio molto grave servono dei correttivi urgenti serve verificare che la nostra qualità e quantità dei corsi di formazione sia adeguata rispetto al livello delle aspettative della sanità toscana e serve valorizzare in molti casi anche le esperienze ospedaliere che ci sono di qualità diffuse nel sistema toscano molte volte c'è la pratica del vivere quotidiano del lavorare del crescere nella dimensione ospedaliere che molte volte non trova una sinergia con la dimensione universitaria serve un amalgma di questi mondi e serve domandarsi se il modello organizzativo che da tanti anni in Toscana funziona con un'azienda universitaria ospedaliere sia un modello ancora cogente e puntuale e serva alla nostra regione è un interrogativo che io pongo alla regione lo pongo all'assessore Bezzini e incalzerò su questo aspetto perché ritengo opportuno che non soltanto chirurghi ma anche per esempio anestesisti e medici dell'emergenza e urgenza vengano formati e si possa passare da quello che molti definiscono il numero chiuso a un numero programmato rispetto all'inserimento formativo dei giovani che poi sono il cuore pulsante della sanità in un sistema che deve puntare sulla qualità e sull'eccellenza e ovviamente trattandosi di professioni sanitarie e professioni mediche riguarda anche il sistema sanitario perché la rete formativa si incrocia anche con le aziende ospedaliere universitarie e con le nostre aziende sanitarie territoriali quindi noi siamo compartecipi diciamo di un percorso ma il soggetto diciamo principale è quello che deriva dal ministero dell'università e dalle università c'è una difficoltà di fondo in tutto il paese a usare le borse di specializzazione che vengono messe a disposizione le borse sono cresciute negli ultimi anni ma evidentemente non ci sono giovani medici disponibili diciamo a intraprendere questo percorso formativo qui probabilmente c'è anche un deficit di programmazione a monte insomma che chiaramente dovrebbe un po' interrogare anche il livello nazionale in tutte le sue articolazioni ma c'è forse anche un tema di scarsa attrattività diciamo della professione medica in questo momento storico ovviamente le criticità non sono tutte omogenee uguali perché ci sono scuole di specializzazione che comunque hanno risposte importanti soprattutto laddove ci sono percorsi legati alla professione medica diciamo che possono essere che vengono ritenuti più gratificanti ecco su tanti aspetti mentre ci sono scuole di specializzazione penso alla medicina d'emergenza che ovviamente fanno difficoltà a trovare giovani medici disposti a intraprendere quel percorso in più su Siena diciamo ovviamente Siena si inserisce nelle difficoltà nazionali ecco che ci sono diciamo a reperire giovani giovani medici disponibili a fare determinati percorsi professionali su Siena emergono alcune criticità specifiche che riguardano alcune scuole di specializzazione penso a chirurgia su questo sulla base anche degli indirizzi nazionali ci saranno le cosiddette site visit ma noi abbiamo anche dato come sistema sanitario regionale come aziende aziende ospedaliere universitarie aziende territoriali la piena disponibilità a collaborare anche con con l'università di Siena per capire se ci sono elementi migliorativi regione toscana il consiglio regionale di Siena di Siena di Siena